Quando anche tu ti fermerai in questo grande autogrill e il viso stanco vedrai rapido sui vetri, sull'alluminio del banco, sarà una sera come questa, che nel vento rompe la luce e le nubi del giorno, sarà un grande momento, lo sapremo io e te soli. La Lectio Magistralis del professor Davide Rondoni ha tenuto a battesimo la prima edizione di Poetami a Miglianico, con la quale il paese sulle colline del Chietino punta a diventare borgo in poesia. La dissertazione di Rondoni, tra citazioni di Dante Ungaretti e D'Annunzio, nei suoi componimenti, ha affrontato il ruolo della poesia e dell'arte nella società, partendo da una domanda, a cosa serve la poesia? E la risposta qual è? Che non serve a niente, come tutte le cose importanti, cosa serve l'amicizia, cosa serve l'amore, cosa serve il dolore, c'è le cose importanti della vita, non le misuri perché servono a qualcosa, o meglio, servono a qualcosa di profondo che non si può misurare. Sulla facciata della Casa delle Monache Sant'Anna, Rondoni ha inciso i primi versi di un componimento che si costruirà con il divenire di Poetami. Questo edificio e la piazza antistante saranno il cuore pulsante culturale del paese. Qua verrà installata una biblioteca nell'ultima parte che stiamo restaurando con un po' di fatica, ma ce la faremo a breve perché abbiamo già stanziato i fondi per recuperare quest'ultima parte. Nel corso della manifestazione sono stati premiati anche i partecipanti alla dodicesima edizione del premio intitolato alla memoria di Paride di Federico, riconoscimenti alle poesie scritte dagli alunni delle scuole primarie e secondarie e poi ai componimenti editi ed inediti provenienti da tutta Italia. Distratto spettatore dell'inesorabile discesa scorgi in trasparenza il vuoto lasciato dal tuo passato. C'era la volontà un pochino di abbracciare un po' tutto il ventaglio degli appassionati e cercare per quanto le nostre possibilità di creare un luogo, un'occasione, un appuntamento che fosse portatore sia di incontri e magari ci auguriamo anche di qualche possibilità. Abbiamo deciso fin dal primo mandato di costituire la Commissione Cultura che ci aiuta in tutte le attività di questo tipo e quest'anno l'abbiamo coinvolta pienamente anche nella selezione dei lavori di poesia e nel giudizio finale, nella formazione della classifica finale. Per le poesie inedite, prima classificata non è deriva di Franco Fiorini. Per le poesie edite, primo classificato Valerio Di Paolo con Diario di Bordo. Premio speciale a Domenico Ruggero, autore della raccolta L'Infinito di Noi.